Questa sera, fratelli nel Signore, volevo parlarvi delle opere di Satana e della fine che poi alla fine dei tempi gli è stato destinato, perché tutto è già stato scritto. Ora, Satana è praticamente una creatura di Dio, Satana è l'angelo, nei profeti è scritto che Satana era l'angelo più bello, quello più splendente, quello più glorioso che Dio avesse fatto. Quando era ancora un angelo del Signore era chiamato appunto Lucifero, che il suo nome riguarda appunto la luce, il suo splendore, la sua gloria in modo che era particolare. Poi cosa è avvenuto? Tutto questo splendore, questa gloria, sempre raccontato nei profeti, lo ha inorgoglito. E allora cosa è salito nel suo cuore? È salito nel suo cuore che, avendo capito che era la creatura maggiore, quella più potente, quella più gloriosa di tutti gli altri, di tutti gli altri angeli, è salito nel suo cuore addirittura il pensiero che lui poteva essere al di sopra di Dio, poteva anche innalzarsi al di sopra di Dio. Ecco, questo lo ha fatto peccare e dall'angelo più lucente, più glorioso, più potente al servizio di Dio è diventato invece il nemico, l'avversario di Dio, perché Satana vuol dire appunto il nemico di Dio, l'avversario vuol dire. Quindi da Lucifero è diventato Satana. Egli è chiamato anche il maligno, il tentatore, il nemico, il principe anche di questo mondo, perché il regno delle tenebre è nemico di Dio. Ora, il principe appunto di questo regno delle tenebre, cioè l'essere più importante e più che vive maggiormente nelle tenebre, del regno delle tenebre, è appunto Satana. Quindi viene chiamato anche il principe di questo mondo, il principe, il Dio anche di questo secolo. Ora, vediamo delle opere che Satana ha compiuto, perché essendo diventato il nemico di Dio, se si oppone la sua opera è soprattutto di opposizione nei confronti di Dio. E' un'opposizione anche nei confronti dei figlioli di Dio, nei confronti della Chiesa di Dio. Quindi la sua opera adesso che svolge, l'opera che Satana svolge, è quella di contrastare la volontà di Dio e di fare guerra, una guerra anche alla Chiesa dell'Iddio vivente e vero. Ora, vediamo la prima opera che Satana ha fatto come tentatore, perché Satana è il tentatore, cioè tentare vuol dire stimolare a commettere una certa cosa che è riconosciuta come sbagliata. Quindi Satana cosa fa? Cioè non è che ti può costringere a fare a te che sei un credente, no? Non ti può costringere a fare una determinata cosa, però può mettere vicino a te qualcosa che ti può spingere, ti può stimolare a commetterla. E questa si chiama tentazione, ti mette attorno, ti tende ad escare, cioè ti getta all'esca e se tu abbocchi commetti il peccato, commetti il peccato che dispiace al Signore. Quindi egli è il tentatore, colui che cerca in tutti i modi di far cadere i santi, di rovinare in un certo qual modo i piani e i disegni di Dio. È chiaro che nessuno può impedire a Dio di operare i suoi disegni, quindi alla fine anche il suo operato rientra, come vedremo in alcuni passi, rientra comunque sempre nella volontà di Dio, perché nel suo operare è sempre limitato. Egli opera sempre nei limiti che il nostro Dio vivente e vero, che governa tutte le cose, gli concede, gli dà dei limiti, quindi oltre non può andare. Ora leggiamo in Genesi 3, la sua prima opera la vediamo in Genesi, quando seduce Eva. Ed è interessante vedere come lui compie l'opera del tentatore. Quindi le Sacre Scritture ci presentano le opere che compie Satana, affinché noi le conosciamo e veniamo così a sapere come lui agisce. Perché, badate bene, il tentatore, il sedutore di tutto il mondo agisce sempre nella medesima maniera. Quindi la scrittura ci fa sapere come agisce, in maniera che noi lo sappiamo, lo conosciamo e stiamo dunque attenti a quello che lui fa contro di noi. Perché lui aspetta anche che ogni santo si trovi in una situazione di difficoltà, di debolezza, per poter poi, come vedremo anche dopo, quando Gesù era nel deserto, che è stato tentato da Satana, quando un credente si trova in una situazione di debolezza, di difficoltà, il maligno arriva per cercare di farlo cadere o di farlo sprofondare maggiormente nelle tenebre, per fermare l'opera, l'opera dei santi, per fermare, per cercare in qualche modo di fermare la corsa dei santi. Ma adesso leggiamo in Genesi, leggiamo in Genesi, cominciamo dal comando che Dio diede. Dio diede questo comando, Genesi 2, sì, Genesi 2, dal versetto 16. E l'Eterno e Dio diede all'uomo questo comandamento. Mangia pure, liberamente, del frutto di ogni albero del giardino, ma del frutto, dell'albero, della conoscenza, del bene e del male, non ne mangiare. Perché nel giorno che tu ne mangerai, per certo morrai. E questo è il comando che Dio diede. Adesso vediamo come, al capitolo 3 di Genesi, vediamo come Satana Tenta, quindi, stimola Eva a commettere il peccato. Perché tentare vuol dire cercare di spingere una persona a trasgredire il comandamento di Dio. Ed è importante quindi valutare come opera Satana finché noi ci rendiamo conto per guardarci da tutte queste seduzioni del Diamo. In Genesi 3 è scritto Or il serpente era il più astuto di tutti gli animali dei campi che l'Eterno e Dio aveva fatti. Ed esso disse alla donna Come? E Dio vi ha detto Non mangiate del frutto di tutti gli alberi del giardino? E la donna rispose al serpente Del frutto degli alberi del giardino ne possiamo mangiare. Ma del frutto dell'albero che è in mezzo al giardino il Dio ha detto Non ne mangiate e non lo toccate che non abbiate a morire. E il serpente disse alla donna No, non morrete affatto Ma il Dio sa che nel giorno che ne mangerete gli occhi vostri si apriranno e sarete come Dio avendo la conoscenza del bene e del male. Poi dopo la donna dopo questa tentazione del diavolo cadde in trasgressione. Però esaminando come il tutto è avvenuto da notare che il diavolo è bugiardo. È manipolatore dei discorsi e delle parole. Cioè le manipola sta scritto una cosa invece lui ti dice come te lo presenta come se Dio avesse detto un'altra cosa. E questo è importante perché badate bene molti vedete qui Satana ha attaccato Eva ha tentato Eva per farla cadere citando partendo dal comandamento che Dio aveva aveva dato partendo dal comandamento che Dio aveva dato ma non è partito da quel comandamento ma non l'ha dato in maniera corretta. Infatti dice come Dio vi ha detto non mangiate del frutto di tutti gli alberi del giardino invece infatti poi Eva gli risponde no Dio aveva detto di mangiare di tutti i frutti dell'albero del giardino ma soltanto di non mangiare quello quello che è il frutto della conoscenza del bene e del male. Quindi vedete è un manipolatore queste cose sono importanti perché badate bene quando un uomo si mette a insegnare la parola pensate ai pastori corrotti a quei dottori ai dottori corrotti ai dottori ai falsi dottori falsi apostoli falsi profeti cosa fanno questi? Leggono una cosa delle scritture ma non la non la accettano così come scritta la manipolano gli danno un altro significato cambiano capite? Cambiano la situazione e se c'è scritto facciamo un esempio che la donna deve pregare con il velo questi seduttori facendo il loro discorso arrivano a dire il contrario spiegano il contrario di quello che è scritto praticamente finiscono col dire che no la donna non deve pregare con il velo capite? Quindi il fatto che noi leggiamo in Genesi la tentazione che è avvenuta nei confronti di che è stata diciamo attuata la seduzione nei confronti di Eva così continua ad essere infatti dopo gli dice il Dio ha detto nel giorno che tu ne mangerai per certo morrai c'è una cosa certa che quando Adamo e anche Eva avrebbero mangiato il frutto della conoscenza del bene del male che Dio aveva vietato sarebbero morti invece Satana dice dice no non morrete affatto cioè anche se voi trasgredete il comandamento di Dio voi non morrete affatto e questo è sempre quello che molti seduttori dicono ancora oggi ti dicono no tu puoi vivere la tua vita come vuoi tanto Dio ti salverà e Dio ti salverà lo stesso vi ricordate quella falsa dottrina una volta salvati sempre salvati tu puoi fare tutto quello che vuoi tanto non morirai spiritualmente invece Adamo e Eva avendo trasgredito al comandamento di Dio avendo trasgredito è avvenuto che sono morti non fisicamente ma sono morti spiritualmente e la stessa cosa avviene oggi ancora in quei fratelli che ingannati dal diavolo dai suoi servitori dai servitori del diavolo perché è sempre il diavolo che parla attraverso i falsi dottori i falsi ministri i falsi fratelli quando dice che quando fa capire che anche se tu ti comporti pecchi vivi come ti pare a te la tua vita e non ti santifichi tu alla fine non morirai spiritualmente perché fisicamente dobbiamo morire tutti quindi non è quel riferimento che bisogna fare ma si parla di un morire spiritualmente e quindi questa seduzione vedete rimane e viene messa in atto sempre con la manipolazione dei comandamenti di Dio e Dio ha dato dei comandamenti il diavolo li manipola perché la seduzione quella che diciamo è più importante da considerare è la seduzione che il diavolo cerca di portare nei confronti dei santi perché la seduzione nei confronti di coloro che sono perduti è più facilmente comprensibile perché essendo già perduti nel loro falle nel loro peccati diciamo il diavolo li può sedurre come vuole li può moltiplicare il loro peccato il peccato li può stimolare li può tentare a commettere a moltiplicare i loro peccati e lì la cosa è molto più facile ma la cosa da tenere da tenere in considerazione maggiormente è il fatto che il diavolo si mette a tentare i santi per farli cadere per farli sviare per farli trasgredire i comandamenti di Dio per metterli contro Dio per farli rinnegare il Dio e questo lo vedremo anche in altri passi che leggeremo qual è uno degli obiettivi che il diavolo si pone è quello di fare in modo che i santi rinneghino il Signore quello è l'obiettivo che lui si pone in questo caso è riuscito a sedurre Eva e li ha fatti morire spiritualmente è riuscito a sedurre Eva manipolando il comandamento che Dio aveva dato e riuscendo a imprimere nel cuore nella mente di Eva il desiderio di mangiare quel frutto benché Dio avesse detto di non mangiarlo quindi nella sua tentazione il diavolo è riuscito è riuscito perché è riuscito a creare quello stimolo lo stimolo giusto affinché Eva potesse mangiare quel frutto e poi lo desse anche a a suo marito Adamo e questo è importante quindi abbiamo visto l'opera che si riferisce sempre ai comandamenti di Dio però li manipola cioè dà un significato diverso da quello per cui Dio ha pronunciato quel comandamento quindi dobbiamo stare attenti quando noi leggiamo qualcosa dobbiamo stare attenti quando viene qualcuno e ci dice no non è così come è scritto ma il significato è qualcos'altro perché siamo di fronte in quel caso siamo di fronte a una persona che sta facendo l'opera del diavolo un'opera di seduzione cioè ti sta stimolando e spingendo a trasgredire i comandamenti di Dio oppure a credere in una eresia in una falsità quindi quello che è stato fatto viene fatto ancora oggi cioè Satana quello che ha fatto sia personalmente che attraverso i suoi servitori sia angeli che persone lo fa ancora oggi e quindi dobbiamo saperle queste cose dobbiamo conoscere il nostro nemico affinché ci guardiamo da lui dal suo operato dal suo modo di agire ora andiamo a esaminare come invece ha tentato anche Gesù sì perché Satana si è permesso gli è stato quindi anche concesso di tentare anche Gesù andiamo in Matteo 4 e lo leggiamo da lì quando Gesù dopo che fu battezzato andò nel deserto digiunò per 40 giorni senza bere senza mangiare nulla e alla fine ebbe fame ora quando si trovò in uno stato di maggiore debolezza ecco che si presenta il diavolo per tentarlo cioè il diavolo ha cercato di far di far peccare di sedurre ha cercato di far trasgredire i comandamenti di Dio anche a Gesù questo è importante perché quando noi ci rivolgiamo a Gesù che siamo caduti nel peccato il diavolo magari ha avuto la meglio su di noi ci ha fatto cadere quando ci rivolgiamo a Gesù per chiedergli perdono dei nostri peccati noi siamo sicuri che lui ci capisce perché perché anche lui è stato messo alla prova è stato tentato in ogni cosa come lo siamo stati tentati noi solo che lui non ha peccato Gesù non ha mai trasgredito il comandamento di Dio non si è mai lasciato sedurre dal diavolo anche se è stato tentato quindi Gesù ci può capire perfettamente capisce la nostra natura la nostra debolezza quando siamo caduti abbiamo sbagliato qualcosa egli ci capisce perché è stato oltre che vero Dio quando è venuto in carne sulla terra è stato anche vero uomo e la sua umanità l'ha vissuta come l'abbiamo vissuta noi con tutta la sua debolezza la sua fame tutti i bisogni che il corpo aveva quindi è importante sapere anche questo perché quando andiamo a Gesù a implorare pietà e misericordia e perdono noi dobbiamo essere sicuri che Lui ci capisce pienamente perché è vissuto anche Lui come stiamo vivendo noi quindi è una cosa che dobbiamo fare andare con piena fiducia al Signore nostro Gesù Cristo quando falliamo in qualcosa sapendo che Lui ci capisce pienamente ma ora leggiamo quindi dal Matteo 4 tutto ciò che riguarda la tentazione di Gesù nel deserto allora Gesù fu condotto dallo spirito su nel deserto per essere tentato dal diavolo e dopo che ebbe digiunato 40 giorni e 40 notti alla fine ebbe fame e il tentatore accostatosi gli disse se tu sei figliolo di Dio di che queste pietre divengano pani ma egli rispondendo disse sta scritto non di pane soltanto vivrà l'uomo ma di ogni parola che procede dalla bocca di Dio fermiamoci alla prima tentazione guardate come usa le parole il diavolo il diavolo è andato a Gesù a tentarlo come lo tenta cioè dice se tu quindi lo mette in discussione se tu sei figliolo di Dio fai in questa maniera capite quante volte magari qualche qualche credente qualcuno viene a noi e ci dice ah ma se tu fai questo se tu sei questo fai anche quest'altro quindi nella stesso modo nello stesso modo il maligno cerca di sedurre anche i santi per farli sbagliare se tu vedi pone la condizione se tu sei figliolo di Dio di che queste pietre diventino pane hai fame sei figliolo di Dio puoi fare ogni cosa allora dì che queste pietre diventino pane e così mangerai soddisferai quel bisogno che la tua carne umana perché Gesù è venuto veramente come carne simile alla nostra dobbiamo dire simile non uguale perché in tutti gli uomini nella carne abita il peccato mentre nella sua carne non ha abitato il peccato altrimenti sarebbe peccatore pure lui noi abbiamo uno dei principi cardini della parola di Dio è quella appunto che Gesù non ha mai peccato in lui non c'è mai stato un'ombra un peccato nessuna contaminazione nessuna impurità quindi Gesù era in una situazione di bisogno di difficoltà nella sua carne e approfittando di quella debolezza ecco che si presenta il tentatore ci prova lo deve fare perché se riesce a sedurre Gesù blocca così il piano di Dio e quindi ci prova è il suo compito è il suo incarico è quello di è quello di tentare di far cadere di far cadere tutti quelli che vogliono fare la volontà di Dio e continuando lo tentò altre due volte a Gesù continuando al versetto 5 allora il diavolo lo menò secco nella santa città e lo pose sul pinnacolo del tempio e gli disse se tu sei figliolo di Dio gettati giù poiché sta scritto egli darà ordine ai suoi angeli intorno a te ed essi ti porteranno sulle loro mani che talora tu non urti col piede contro una pietra Gesù gli disse egli è altresì scritto non tentare il Signore e Dio tuo torniamo un attimo indietro perché non ho detto prima per quanto riguarda la prima tentazione come si deve rispondere al maligno quando fu tentato il maligno tentò Gesù gli disse di dire a quelle pietre di trasformarsi in pane per mangiare che aveva fame Gesù gli risponde con le sacre scritture e sta scritto vedete non di pane soltanto vivrà l'uomo ma di ogni parola che procede dalla bocca di Dio quindi Gesù respinge la tentazione che il diavolo gli ha lanciato attraverso le sacre scritture nella seconda pure risponde con le sacre scritture nella seconda tentativa addirittura il diavolo cerca manipolando sempre la parola di Dio perché i Satana quando ci cita anche Satana le scritture ma non le cita con il senso e con l'obiettivo che hanno che ha la parola di Dio per cui è nata per cui è stata diciamo scritta ma la cita per raggiungere un suo obiettivo che non è conforme alla volontà di Dio quindi ci sono ancora oggi quei sono servitori di Satana i servitori di Mamona i servi di Mamona quelli che citano le scritture ma non le citano per il bene della chiesa o di chi ascolta le citano le sacre scritture per un loro interesse personale per distruggere più che altro la chiesa per sviarli per indirizzarli fuori dalla strada maestra della via della verità questo accade ancora oggi quello che il diavolo ha fatto con Gesù anche citando le scritture lo fa ancora oggi con tutti i santi allora come dobbiamo opporci noi a queste a questo tipo di tentazione nei profeti è scritto il mio popolo perisce per mancanza di conoscenza di conoscenza della volontà di Dio e della parola di Dio vuole intendere quindi noi dobbiamo studiare le sacre scritture perché quando si presenterà il tentatore perché guardate bene il tentatore si presenterà con tutti in un modo in un altro attraverso una persona una donna o in altri modi si presenterà davanti a tutti e cercherà di tentare di far cadere di sviare dalla via della verità di far rinnegare Cristo questo è il suo obiettivo e noi dobbiamo resistere diciamo al maligno anche attraverso sì per mezzo della fede ma dobbiamo resistergli anche con la conoscenza perché Gesù rispose alle tentazioni del diavolo rispose con la conoscenza della verità e della parola di Dio gli rispose sta scritto poi gli rispose quando Satana citò le scritture sta altresì scritto quindi sta scritto quello che hai detto tu ma non c'è scritto per il motivo per cui Satana l'ha citato sta altresì scritto non tentare il Signore Dio tuo vedete quindi attraverso le scritture Gesù ha risposto alle tentazioni che gli sono state presentate quindi cosa comprendiamo da questo comprendiamo che una base importante per resistere alle tentazioni che si possono presentare nella nostra vita da credenti dobbiamo conoscere le sacre scritture più le conosciamo e più siamo in grado quindi di rispondere a chi ci tenta vi faccio un esempio uno è divorziato va bene ci sono quelli che ti insegnano no ma ti puoi risposare se uno non conosce le scritture rimane ingannato rimane ingannato e cade in questa trappola quanti sono le vittime in questo in questo modo in questa tentazione sono stati tanti e invece se uno avrebbe conosciuto le sacre scritture avrebbe dovuto rispondere no la scrittura non permette la parola di dio non permette le seconde nozze di questo genere di tentazioni di altre cose come ad esempio la fornicazione no ma tu puoi anche fare con la tua fidanzata capito tanto poi te la sposerai davanti a dio è come se sei già sposato capite cioè sono tutte tentazioni che vengono dal diavolo solo che provengono dalla bocca che magari si dicono credenti o addirittura pastori o anziani o dottori nelle comunità e questo modo di agire è una tentazione che viene dal diavolo lì non c'è un serpente perché se ci fosse un serpente tu già staresti in guardia no no il serpente te le manda a dire certe cose attraverso una persona simile a te non te le manda a dire da un coccodrillo che tu già vedi un coccodrillo staresti no staresti in guardia e non lo staresti proprio a sentire no ti manda un caro fratello simile a te che magari ha anche il titolo di pastore e ti insegna delle cose per farti sviare dalla verità per farti allontanare dalla via maestra dalla via della verità ti si presenta con l'inganno ti si presenta con una persona è sempre il maligno ma si presenta con una persona sorridente che dice ti voglio bene ti dà la pacchetta nella spalla capite magari ti invita anche a cena a casa però poi quando ti dice qualcosa sulla parola di Dio ti sta sviando ti sta dicendo che tu puoi peccare e non riceverai nessuna punizione da parte di Dio e questa è la seduzione che opera ancora oggi il diavolo ecco perché è importante conoscerle queste cose quando le si meditano dobbiamo riconoscerle perché si presenteranno a noi questi nemici della verità questi servitori di Satana si presenteranno a noi e cercheranno di fare le cose che ha fatto Satana quindi noi dobbiamo conoscere come ragiona come agisce come opera Satana affinché ci guardiamo da lui e da tutti i suoi servitori la terza tentazione fu questa di nuovo il diavolo lo menò sopra un monte altissimo e gli mostrò tutti i regni del mondo e la loro gloria e gli disse tutte queste cose io te le darò se prostrandoti tu mi adori allora Gesù gli disse va Satana poiché sta scritto adora il Signore Dio tuo ed a lui solo rendi il culto allora il diavolo lo lasciò ed ecco degli angeli vennero a lui e lo servivano voglio farvi notare qui una cosa da parte la tentazione anche qui di farsi adorare quindi di far peccare Gesù c'è questo che Satana in cuor suo vuole essere adorato capite abbiamo detto che ha peccato d'orgoglio che si voleva voleva essere al di sopra di Dio Dio ed è una cosa buona e giusta che sia adorato Dio vuole essere adorato e servito ed è una cosa che si deve fare è una cosa giusta e buona il diavolo anche lui vuole essere come lo è Dio anche lui vuole essere adorato e servito e vuole che gli si venga fatto un culto a lui infatti poi ci sono i satanisti ci sono proprio le varie religioni ci sono anche altre religioni che magari vengono chiamate religioni cristiane in qualche modo ma in realtà fanno un culto al diavolo non a Dio vedi i cattolici per esempio ma anche tra i protestanti in certe chiese evangeliche dove si insegna la falsità e si fanno determinate e si vive nel peccato in realtà quelli non stanno rendendo un culto a Dio perché vivono nel peccato ma stanno rendendo un culto nella menzogna e nel peccato lo stanno rendendo al diavolo se tu entri in certe comunità si sente spiritualmente si avverte che ci sono presenze demoniache che lì non si sta facendo un culto a Dio lo si sente proprio spiritualmente ecco in quelle ci sono quelle comunità quindi non solo i satanisti rendono un culto al diavolo ma glielo rendono purtroppo anche determinate comunità denominazioni cristiane e questo è uno degli obiettivi che si pone il diavolo quello di essere adorato cioè di mettersi al posto di Dio quindi questo è uno dei suoi obiettivi per quanto riguarda la sua tentazione voglio leggervi anche questo questo andiamo in prima Corinzi al capitolo 7 capitolo 7 siamo in ambito del matrimonio e sta scritto così al versetto 3 7 3 il marito renda alla moglie quel che le è dovuto e lo stesso faccia la moglie verso il marito la moglie non ha potestà sul proprio corpo ma il marito e nello stesso modo il marito non ha potestà sul proprio corpo ma la moglie non vi private l'un dell'altro se non di comun consenso per un tempo affin di darvi alla preghiera e poi ritornati assieme onde satana non vi tenti a motivo della vostra incontinenza cosa succede praticamente cosa vuole dire qui l'apostolo paolo vuole dire che tra marito e moglie bisogna dare il marito deve dare la moglie e la moglie deve dare al marito ciò che gli è dovuto ci si può astenere solamente quando uno si deve dedicare alla preghiera se uno si dedica alla preghiera al digiuno è chiaro che il coniuge non può pretendere determinate cose quindi quindi deve deve essere comprensivo ma tutto questo però paolo dice deve essere deve essere limitato a un certo tempo perché cosa succede se se si prolungano certe certe diciamo astinenze se si prolungano certe astinenze succede che interviene satana vedete dicevamo prima che satana aspetta il momento il momento di debolezza il momento di difficoltà dei credenti e delle dei credenti dei fratelli e delle sorelle aspetta il momento di difficoltà e interviene come con la tentazione in qualche modo vedendo che quel fratello quella sorella sono deboli ecco che si presenta lui con le sue tentazioni per farli cadere per farli peccare e magari riesce anche a dividere quella famiglia perché se uno cade in tentazione di adulterio in qualche modo poi lo viene a sapere il coniuge e dopo la famiglia è distrutta perché perché si è creata una situazione di debolezza e ne ha approfittato il diavolo e quella il credente debole è caduto quindi bisogna che questo riguarda soprattutto i fratelli che sono sposati devono studiarsi bene questi passaggi per sapere che quanto riguarda l'astinenza devono devono diciamo astenersi l'un dall'altro solamente per un tempo determinato e solo per motivi ben per motivi buoni come ad esempio quello della preghiera quindi non è che uno si astiene per magari a lungo per motivi che incomprensibili o inutili perché così tu metti in difficoltà metti in difficoltà il tuo coniuge tu sei a posto ma il tuo coniuge lo metti in difficoltà perché satana poi tenta quello che è più debole e a questo punto vi dico vi racconto una testimonianza di un fratello che veniva proprio in conferenza qui da noi e Dio lo aveva avvisato con una visione gli aveva fatto vedere un demone che era sopra sua moglie è passato il tempo lui però non l'ha capito non l'ha interpretato bene non ha capito poi cos'è successo passa del tempo e abbiamo saputo che sua moglie ha commesso adulterio poi si è sentita male si è pentita gli ha chiesto gliel'ha confessato lui è andato in crisi il matrimonio è andato in crisi adesso mi sembra che si siano separati però comunque il matrimonio è andato in crisi e qui in conferenza si lamentava si lamentava con me che Dio aveva permesso una tale cosa al che io come mio solito ho dovuto fare delle piccole indagini gli ho detto io ascolta un po' ma da quanto tempo tu non rendevi a tua moglie quello che gli era dovuto e lui mi ha detto era un anno perché mi sono dedicato a fare due tre lavori e lavoravo giorno e notte e non aveva tempo per dedicare a sua moglie e che gliel'ho dovuto dire ma scusa un po' ma la scrittura è chiara anche in quel punto se tu indebolisci il tuo coniuge tu magari sarai a posto ma il tuo coniuge no se tu indebolisci il tuo coniuge poi quello verrà tentato verrà tentato e se cade poi succede quello che succede adesso la colpa di quella adulterio io non mi sento di darla solamente tutta addosso a lei perché lei è colpevole perché uno che commette adulterio non ha nessuna giustificazione lo commette e basta però una parte di trasgressione l'ha fatta pure lui perché lui non ha reso alla moglie quello che gli era dovuto come diceva qui come abbiamo letto qui che deve fare come scritto come Paolo ha scritto ai Corinzi quando guardate bene che quando non si osserva la parola il maligno si intromette il maligno vuole è lì che lui sguazza è lì che trova i punti deboli getta l'esca tenta si muove non rimane inoperoso il diavolo non rimane inoperoso è sempre lì vicino a noi quando ci indeboliamo ci attacca quando ci indeboliamo ci attacca non è non è che rimane inoperoso e questa è la conoscenza cominciamo a difendersi da tutti gli attacchi del maligno come conoscendo la verità della parola di Dio perché così sappiamo come comportarci sappiamo come si conduce il nostro nemico sappiamo come bisogna rispondergli e sappiamo anche che dobbiamo perseverare nella preghiera per non cadere in tentazione perché dobbiamo stare in comunione con Dio però vedete anche queste cose in un in un matrimonio bisogna considerarle bisogna considerare tutta la scrittura perché nel momento in cui tu trascuri un passo della scrittura tu stai trasgredendo tu ti stai mettendo in difficoltà in quel caso hai messo in difficoltà gli altri e poi si è rovinato tutto tutta una famiglia il maligno è riuscito a penetrare e ha rovinato una famiglia una famiglia di credenti di cristiani vedete questa è l'opera del maligno e la dobbiamo conoscere dobbiamo sapere come agisce affinché noi ci guardiamo dalle sue tentazioni dalla sua opera ora andiamo a leggere un'altra opera che il maligno ha fatto andiamo a leggere i primi capitoli del libro di Giobbe nel libro di Giobbe si parla lì ampiamente anche di Satana ed è bene che c'è scritto e noi lo andiamo a leggere che noi oggi stiamo studiando alcune opere che compie Satana alcune cose che lo riguardano affinché noi le conosciamo e ce le ricordiamo allora leggiamo capitolo 1 di Giobbe al versetto 6 or accadde un giorno che i figlioli di Dio vennero a presentarsi davanti all'Eterno e Satana venne anche egli in mezzo a loro e l'Eterno disse a Satana donde vieni e Satana rispose all'Eterno dal percorrere la terra e dal passeggiare per essa e l'Eterno disse a Satana hai tu notato il mio servo Giobbe non ce n'è un altro sulla terra che come lui sia integro retto tema il Dio e fugga il male e Satana rispose all'Eterno e egli forse per nulla che Giobbe teme il Dio non l'hai tu circondato di un riparo lui la sua casa e tutto quel che possiede tu hai benedetto l'opera delle sue mani e il suo bestiame ricopre tutto il paese ma stendi un po' la tua mano tocca quanto egli possiede e vedrai se non ti rinnega in faccia e l'Eterno disse a Satana ebbene tutto quello che possiede è in tuo potere soltanto non stendere la mano sulla sua persona e Satana si ritirò dalla presenza dell'Eterno cosa è avvenuto è avvenuto che in cielo ci fu una riunione e ci sono riunioni in cielo un riunione in cui tutti gli angeli si sono presentati davanti a Dio questa riunione è importante questo che avviene è importante perché poi dopo noi leggeremo un passo in Apocalisse in cui questa riunione diciamo a queste riunioni Satana verrà il giorno che lui non potrà più partecipare sarà scaraventato giù dal cielo non avrà più accesso al cielo alla presenza di Dio perché Satana comunque si può presentare attualmente ancora davanti a Dio si presenta gli è permesso infatti abbiamo visto che a questa riunione che c'è stata in cielo tutti gli angeli che si sono i figlioli di Dio qui intende angeli non figlioli poi lo spiega in altri punti sempre del libro di Giobbe dove è scritto appunto che i figlioli di Dio suonavano quando Dio creava i cieli e la terra quindi è dimostrato che la parola figlioli di Dio viene utilizzata per per indicare anche gli angeli va bene in quei punti è stato utilizzato per indicare gli angeli che si sono presentati davanti all'eterno tra questi angeli si è presentato anche Satana si è presentato anche Satana e Dio ha instaurato un discorso con Satana gli ha fatto notare Giobbe Satana l'aveva già notato Giobbe infatti quando dice egli forse per nulla che Giobbe teme Dio non l'hai tu circondato di un riparo lui la sua casa e tutto quello che possiede cosa aveva notato Satana aveva notato che Giobbe la sua casa e tutto quello che lui possedeva era circondato di un riparo che Dio aveva messo su di lui e su tutta la sua casa e questo è importante saperlo perché così avviene anche per noi che siamo in comunione con il Signore noi che serviamo l'Idio vivente vero noi la nostra casa tutto quello che noi possediamo tutto ciò che ci riguarda è circondato di un riparo e il maligno il diavolo non può toccarci non può toccarci se non se non e lo vedremo anche in un altro passo nel passo successivo dove è scritto che dove Gesù dice Satana ai suoi discepoli dice Satana ha chiesto di vagliarvi cioè di mettervi alla prova quindi è possibile che Dio possa permettere così come è successo per Giobbe perché poi dopo conosciamo la storia di Giobbe che dopo il diavolo fa gli toglie tutti i suoi beni gli fa morire anche i figli per metterla alla prova ma Giobbe non peccò non rinnegò in faccia perché qui il diavolo dice se tu gli tocchi tutti i suoi beni gli togli il riparo il riparo dalle attacchi del maligno se tu gli togli quel riparo lui ti rinnegò si negherà in faccia come dire che lui ti serve solamente per avere un resoconto sia economico che anche di protezione capite non ti serve quello che voleva dire Satana che è il manipolatore badate bene Satana è il manipolatore manipola i concetti le cose accusa i fratelli li accusa ai santi di fare determinate cose per motivi sbagliati invece Giobbe temeva il Dio fuggiva il male veramente non era come diceva Satana e neanche ha rinnegato il Signore quando Satana lo ha toccato vedete l'opera quindi che sempre quell'opera di manipolazione dei discorsi e dei concetti sempre contrari al al popolo di Dio sempre contrari ai santi sono discorsi sempre accusatori nei confronti dei santi per mettere le persone contro Dio per farle andare contro Dio e di Giobbe disse voleva appunto che se avrebbe toccato i suoi beni lo avrebbe tolto se Dio avrebbe tolto il suo riparo da tutte le sue cose lui dice Satana che lo avrebbe rinnegato in faccia vedete una delle cose che vuole il maligno è che i santi che chi serve Dio rinnegano rinneghi il Signore lo rinneghi e dobbiamo saperlo questo noi non dobbiamo rinnegare mai il Signore cadiamo sì tutti i giorni magari in molte cose ma altra cosa è rinnegare no assolutamente se ci viene una prova se contro di noi se su di noi viene una prova una sofferenza una malattia una difficoltà anche particolare come ad esempio morte di figli noi assolutamente come poi è successo anche a Giobbe assolutamente non ci dobbiamo permettere di parlare contro Dio non dobbiamo assolutamente rinnegare il Signore perché il Signore può permettere a Satana di vagliarci di metterci alla prova come infatti ha detto Gesù che adesso andiamo a leggere andiamo a leggere in Lucca in Lucca 22-31 è scritto Simone Simone Ecco Satana ha chiesto di vagliarvi come si vaglia il grano ma io ho pregato per te affinché la tua fede non venga meno quindi l'opera che fa Satana che ancora sta facendo è quella di chiedere a Dio al Signore di metterci alla prova duramente come è successo poi a Giobbe a volte possono venire anche delle prove molto dure vi faccio un esempio adesso ho letto leggevo sui social che c'è un fratello che a cui gli è deceduta una delle sue figlie di due mesi quindi la prova è durissima la prova è difficilissima da sopportare però cosa fai ti metti a rinnegare il Signore a dire Signore io non ne voglio più sapere di te perché non mi hai protetto abbastanza allora vale il discorso che Satana ha fatto con Giobbe siccome tu mi stai riparando da ogni male io ti adoro no noi dobbiamo adorare Dio per quello che Egli è non per quello che Lui ci dà capite noi adoriamo e serviamo il Dio perché Lui è degno non perché Lui ci dà in contraccambio qualche cosa lo dobbiamo fare perché si deve fare perché è degno il Signore di essere adorato e servito e non perché ci benedice o ci dà quello che ognuno di noi desidera non è un contraccambio poi vero è che se noi serviamo il Signore il Signore sa che noi abbiamo bisogno di determinate cose e Lui ce le dà certo però non dobbiamo servire il Signore per avere in contraccambio come fanno taluni che danno dei soldi per averne cento no danno la decima per ricevere cento volte quello quello quindi cosa fanno vogliono compiacere al Signore per avere un contraccambio anche soprattutto monetario qui non c'è uno scambio noi dobbiamo servire il Dio adorarlo e basta senza aspettarci nulla in cambio ma è chiaro che noi lo sappiamo che se noi adoriamo il Dio e ci santifichiamo Lui ci benedice grandemente è chiaro questo lo sappiamo perché la scrittura ce lo dice ma noi non è che lo serviamo perché desideriamo una macchina nuova o qualche altro bene materiale capite cioè non si deve fare non si deve assolutamente ragionare in questa maniera e quindi però voglio che sappiate che quello che è successo a Giobbe quella finestra è aperta anche per noi oggi non cambia nulla perché Gesù lo ha ricordato ha detto Satana ha chiesto di vagliarvi e si ha chiesto di vagliare quei discepoli state tranquilli che se Dio glielo permette e Satana lo chiederà certamente poi dipende da Dio se lo permette oppure no ma Satana può chiedere di vagliare di mettere la prova di scuotere fortemente la fede di ciascuno di noi ecco qui la conoscenza ecco qui la comunione con Dio qualsiasi cosa succeda nella nostra vita noi dobbiamo stare fermi nella verità in Dio dobbiamo stare attaccati al Signore perché sappiamo che possono venire anche queste prove queste difficoltà che possono essere dolorose possono essere molto forti ma noi dobbiamo resistere sempre a tutto e non dobbiamo rinegare il Signore non dobbiamo accreditare nulla di malfatto al Signore come poi ha fatto Giobbe non ha sbagliato a parlare contro Dio e la stessa cosa dobbiamo farlo noi però dobbiamo saperle queste cose perché talvolta a uno gli arriva una malattia alcuni che gli insegnano che al credente non gli cade nessuna malattia poi gli arriva la malattia e se la prende col Signore perché non capisce ma gli è stata insegnata una falsità ecco perché vanno in crisi alcuni quando viene una malattia vanno in crisi perché non se l'aspettavano perché gli hanno sempre insegnato che le malattie non colpiscono i santi e invece possono colpirle possono colpire o per punizione da parte di Dio vedi corinzi che prendevano indegnamente della Santa Cena si ammalavano e anche morivano oppure può venire una malattia come a Giobbe non perché lui avesse peccato ma perché era stato messo alla prova da Dio è stato messo alla prova è stato vagliato è stato provato la sua fede è stata scossa per vedere se resisteva ebbene questo può accadere anche a noi oggi può accadere anche a noi oggi ci può Dio mettere alla prova in maniera forte e dobbiamo resistere ecco perché dobbiamo studiare le Sacre Scritture perseverare nella preghiera perché io che ne so quando uno o se se e quando ciascuno di noi sarà messo fortemente alla prova quando non si sa ecco perché insistiamo sempre nel dirvi esortarvi a studiare le Sacre Scritture a mantenervi perseveranti nella preghiera perché nel momento in cui verrà una prova e non sappiamo quando voi dovete resistere quella prova la devi vivere tu quella prova che Dio ti manda ti manderà forte meno forte quello che sarà la devi vivere tu quindi devi essere tu in grado di superarla se non ti viene in tutta la tua vita nessuna prova dura forte è meglio così per te però non a tutti sarà così alcuni saranno messi alla prova duramente perché Satana avrà chiesto di vagliarli e Dio glielo concederà e allora tu devi resistere perché davanti a te c'è la vita eterna tu non puoi per una malattia rinunciare a tutto e gettare via tutto non è che si serve Dio solo quando tutto va bene dobbiamo servire Dio anche quando le cose possono prendere una piega dolorosa una sofferenza quindi dobbiamo saperle queste cose dobbiamo stare attaccati alla parola studiare diciamo divorare la parola di Dio perché quel divorare studiare la parola vuol dire prepararsi ad affrontare delle battaglie molto dure e difficili che possono arrivare e sicuramente molti arriveranno faccio un esempio viene una persecuzione e ti vogliono tagliare la testa ti sei preparato tu a questo sei pronto ecco bisogna essere pronti sempre perché io non lo so quando scatterà la persecuzione perché prima o poi scatterà magari non scatterà quando noi siamo in vita però noi dobbiamo prepararci lo stesso ci siamo chiamati a essere pronti ugualmente anche se non ci riguarderà ma noi dobbiamo essere pronti adesso andiamo a leggere due casi due esempi in cui la tentazione di Satana è riuscita e poi vediamo anche sappiamo come è andata a finire leggiamo ad esempio leggiamo in Giovanni alcune cose che riguardano Giuda Iscariotta Giuda Iscariotta era un vero credente è stato era un discepolo di Gesù Cristo tra i suoi discepoli Gesù è salito sul monte ha pregato per sceglierne dodici per dare loro il ministerio di apostolo tra questi dodici è stato scelto anche anche Giuda Gesù non è che è andato a pregare sul monte e poi non ci ha capito niente e ha scelto un non credente come Giuda come taluni vogliono far far sembrare che siano le cose ma non è così Gesù non si è sbagliato Gesù ha chiamato Giuda perché in quel momento era credente ma Gesù sapeva che per adempiere le sacre scritture Giuda avrebbe dovuto compiere l'opera che poi tutti conosciamo l'ha tradito e dopo si è suicidato però queste le cose che dobbiamo sapere è che Giuda inizialmente era un credente faceva la volontà di Dio ma dopo è scritto che Satana mise in cuore di Giuda di tradirlo vedete di nuovo Satana interviene Satana nell'opera contro i credenti per mettere i credenti contro la volontà di Dio contro il Signore nostro Gesù Cristo e talune volte l'opera seduttrice del diavolo funziona quando a volte abbiamo dei cari fratelli che sono vicini a noi improvvisamente noi ce li troviamo contro come è successo in mezzo a noi con qualcuno cos'è successo? è successa la medesima cosa che è successa con Giuda Satana ha sedotto il loro cuore e li ha messi contro di noi li ha messi contro la verità li ha messi contro Dio non che noi siamo Dio ma annunziando la verità li ha messi contro la verità della parola di Dio quindi si sono messi contro Dio non è importante se si mettono contro di noi è importante che non si mettano contro Dio ma il problema non è che abbandonano noi contrastano noi e si attengono alla sana dottrina no contrastano noi e poi si sviano anche dalla verità della parola di Dio è quello che poi pagheranno quindi l'opera del diavolo nel sedurre l'opera di Satana dell'avversario di Dio nel sedurre i credenti è sempre presente viene fatta continuamente quindi non dobbiamo assolutamente abbassare la guardia dobbiamo sempre sempre considerare e tenere da conto queste cose e studiando le sacre scritture leggiamo in Giovanni capitolo 13 dal versetto 27 e allora dopo dopo che ci fu la cena del Signore no quando quando fu fatta l'ultima cena prima di essere arrestato Gesù Giovanni scrive queste cose che riguardano Giuda e allora dopo il boccone Satana entrò in lui per cui Gesù gli disse quel che fai fallo presto vi ho citato questo passaggio per farvi vedere che Satana è entrato dentro Giuda Satana è entrato dentro Giuda non solo certi spiriti immondi possono che servono Satana possono entrare dentro delle persone anche credenti se si svigliano se rinnegano il Signore ma lo stesso Satana è scritto qui che è entrato essendo un angelo un essere spirituale può fare anche questo ed è entrato in Giuda poi Giuda è stato la guida di quelli che arrestarono Gesù dopo si pentì e si suicidò si pentì si sentì male ma non non ricevete da Dio il ravvedimento perché una cosa è pentirsi una cosa è essere perdonati sono due cose distinte bisogna pentirsi sempre per essere perdonati ma il perdono appartiene a Dio questo lo dice Paolo in un passo a Timoteo dice semmai verso quelli che si sono sviati dalla verità semmai avvenga è che Dio concede a loro di ravvedersi quindi è Dio che concede il ravvedimento e il perdono in questo caso di Giuda dovevano le cose dovevano andare così e quindi Giuda ha fatto spazio al diavolo il Satana è entrato in lui e dopo ha tradito Gesù a Gesù è successo quello che era scritto che doveva succedere ma lui poi si suicidò Giuda si suicidò vedete la fine che fanno quelli che cadono nella tentazione del diavolo fanno sempre poi una brutta fine come poi ha fatto una fine anche una brutta fine anche ne cito un altro come esempio Anania e sua moglie Saffira al capitolo 5 di Atti degli Apostoli è scritto ma un certo uomo chiamato Anania con Saffira sua moglie vendè un possesso e tenne per sé parte del prezzo essendone consapevole anche la moglie e portatane una parte la pose ai piedi degli Apostoli ma Pietro disse Anania perché ha Satana così riempito il tuo cuore da farti mentire allo Spirito Santo e ritenere parte del prezzo del podere se questo restava invenduto non restava tuo e una volta venduto non era il prezzo in tuo potere perché ti sei messa in cuore questa cosa tu non hai mentito agli uomini ma a Dio e Anania udendo queste cose queste parole cadde e spirò morì cosa fece Anania Pietro disse che il suo cuore era stato riempito da Satana era stato riempito da Satana in modo che mentisse agli Apostoli qual era la sua menzogna che lui aveva venduto siccome in quel periodo tutti vendevano i loro terreni quello che avevano per metterlo ai piedi degli Apostoli per essere distribuiti ai poveri allora se lui manteneva il terreno senza venderlo non sbagliava se lui vendeva il terreno e si teneva tutti i soldi non sbagliava neanche così ma se ne poteva tenere anche una parte quello che non poteva quello che non poteva fare era mentire allo Spirito Santo mentire ai Santi mentire a Dio perché cosa ha fatto ha fatto passare come se tutto il prezzo del campo venduto fosse quello che ha messo ai piedi dell'Apostolo invece una parte se l'era trattenuta ha mentito ha mentito e per questa sua menzogna che gli ha messo in cuore chi chi gliel'ha messo in cuore gliel'ha messo in cuore Satana come 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 gli ha detto Pietro quindi vedete l'azione anche per quanto riguarda il denaro bisogna stare attenti ai beni materiali bisogna stare attenti che Satana non guidi il cuore delle persone per ingannare i Santi per ingannare Dio per mentire a Dio allo Spirito Santo perché col denaro è facile che si pecchi anche lì o per avarizia per amore del denaro quindi Satana è pronto conoscendo le debolezze delle persone dei Santi Satana è pronto ad agire per farli cadere quindi attenzione facciamo attenzione perché queste sono state le conseguenze di Giuda le conseguenze di Anania e anche di sua moglie Saffira che avendo mentito sono morti quindi c'è una conseguenza badate bene che se Satana ci tenta e noi cadiamo ci possono essere conseguenze devastanti come anche abbiamo visto quel fratello di cui ho citato che è stata tentata la moglie anche a cagione sua che ha diciamo non gli è stato dato il dovuto alla moglie quando si sbaglia e si viene tentati da Satana e si cade c'è un prezzo da pagare c'è un prezzo in base all'errore che è stato fatto ci sono dei prezzi da pagare è questo che non bisogna fare non bisogna cadere sotto le tentazioni del diavolo bisogna resistere bisogna perseverare nella preghiera come ha detto Gesù pregate per non entrare in tentazione perché una persona che non prega una persona che non prega non dedica del tempo a pregare in ginocchio davanti a Dio ad adorare Dio a servirlo è debole spiritualmente e può cadere più facilmente nelle tentazioni del diavolo con le conseguenze che esse comportano poi anche dobbiamo rispondere alle tentazioni del diavolo attraverso la conoscenza delle sacre scritture quindi un'altra cosa che dobbiamo fare per respingere tutti gli attacchi e le tentazioni del diavolo è quella di conoscere le sacre scritture affinché quando ci viene in mente il maligno fa passare nella nostra mente dei pensieri malvagi noi riusciamo a respingerli per mezzo della conoscenza della parola che abbiamo la verità respinge tutta la menzogna quindi quindi dobbiamo conoscere il più possibile affinché la menzogna non possa prendere piede nella nostra mente e non scenda assolutamente nel nostro cuore la verità la verità è la conoscenza della parola quindi è importante studiare le sacre scritture ora un'altra opera che il diavolo fa è quella anche di legare attraverso le malattie e questo lo leggiamo andiamo al Vangelo di Luca capitolo 13 e parla di una donna paralitica una donna paralitica è di questa donna paralitica che poi Gesù ha liberato liberato da Satana perché il suo blocco il suo legame era causato da Satana e Gesù dice leggiamo il versetto 14 Luca 13 14 or il capo della sinagoga sdegnato che Gesù avesse fatta una guarigione in giorno di sabato prese a dire la moltitudine ci sono sei giorni nei quali si ha da lavorare venite dunque in quelli a farvi guarire e non in giorno di sabato ma il signore gli rispose e disse ipocriti non scioglie ciascun di voi di sabato il suo bue o il suo asino dalla mangiatoia per menarlo a bere e costei che figliola di Abramo e che Satana aveva tenuta legata per ben 18 anni non doveva essere sciolta da questo legame in giorno di sabato e mentre diceva queste cose tutti i suoi avversari erano confusi e tutta la moltitudine si rallegrava di tutte le opere gloriose da lui compiute vediamo leggiamo dal versetto 11 lo stato di quella donna se parla della malattia ed ecco una donna che da 18 anni aveva uno spirito di infermità ed era tutta curvata e incapace di raddrizzarsi in alcun modo e Gesù vedutela la chiamò a sé e le disse donna tu sei liberata dalla tua infermità quella infermità era causata da Satana causata da Satana era tutta piegata era uno spirito di infermità quindi Gesù ha liberato quella donna da quello spirito di infermità che la teneva legata quindi un'altra delle cose che Satana può fare è quello a taluni di tenerli legati attraverso determinate malattie attraverso determinati spiriti di infermità e qui ecco la necessità una necessità importante di un dono spirituale che è il dono di discernimento degli spiriti noi sappiamo che ci sono i doni i doni spirituali che lo Spirito Santo dà a come vuole lui a chi vuole lui tra i doni ci sono i doni di guarigioni e c'è anche il dono di discernimento degli spiriti col dono di discernimento degli spiriti se c'è una persona malata lui riesce con questo dono a vedere se quella malattia è dovuta o a uno spirito immondo che è in lei oppure è una semplice malattia cosa cambia questo? cambia notevolmente perché se è uno spirito immondo io devo cacciare il demone non devo guarire la malattia è causata dal demone quindi io la guarigione la posso ottenere pregando per cacciare i demoni il demone lo spirito immondo lo spirito di infermità che è in quella persona se invece quella persona è soltanto malata e basta c'è una malattia nel corpo non uno spirito allora si prega per la sua guarigione quindi le cose sono diverse una cosa è sgridare uno spirito immondo e satana un altro è pregare per la guarigione di quella persona quindi vedete dobbiamo sapere anche queste cose per poi mettere in pratica qualora uno si trova a dover a dover dover si trova davanti a qualche infermità se Dio ti concede di sapere di vedere con questo dono di discernimento allora sai cosa devi fare o pregare per la guarigione o cacciare il demone certamente se Dio non te lo fa vedere allora puoi pregare per tutte e due signore guarisci e se mai vi fosse uno spirito immondo caccialo via nel nome di Gesù Cristo capite dobbiamo cercare dobbiamo conoscere per poi praticare la cosa giusta al momento al momento giusto ora abbiamo visto grossomodo toccato solo alcune delle azioni che compie Satana ma voglio terminare voglio terminare col ricordare alcuni passi che ci fanno sapere la fine che farà Satana in tutta la sua potenza in tutta la sua gloria il potere che Dio gli ha concesso di avere alla fine però dobbiamo sapere anche che fine farà Satana ora leggiamo in seconda Tessalonicesi seconda Tessalonicesi al capitolo 2 leggiamo dal versetto 9 l'avvenuta di quell'empio avrà luogo per l'azione efficace di Satana con ogni sorta di opere potenti di segni e di prodigi bugiardi e con ogni sorta di inganno di iniquità a danno di quelli che periscono perché non hanno aperto il cuore all'amore della verità per essere salvati qui nel capitolo 2 della seconda lettera di Paolo ai Tessalonicesi parla anche parla del ritorno del Signore quali sono i segni che devono avverarsi prima del ritorno del Signore uno di questi segni è l'avvenuta dell'empio dell'anticristo del falso e anche del falso profeta finora è trattenuto è trattenuta l'avvenuta dell'empio quando è che si verificherà l'empio l'anticristo potrà manifestarsi e potrà compiere la sua opera lo potrà fare solamente nel momento in cui e qui andiamo a leggere in Apocalisse lo potrà fare solamente nel momento in cui ci sarà una battaglia nel cielo Satana e gli angeli che lo seguiranno perché vedete la sua opera sedutrice è così potente che benché tutti gli angeli conoscano il Dio quindi sanno chi è Dio pure lui riuscirà a sedurre un certo numero di angeli quindi un certo numero di angeli lo seguiranno il diavolo serviranno il diavolo e Satana l'avversario di Dio il nostro anche avversario questo per dirvi quanto è potente l'efficacia sedutrice del diavolo che non dobbiamo assolutamente sottovalutare ma neanche temere non dobbiamo temere ma non dobbiamo sottovalutare la sua azione quindi è sbagliato anche temerlo perché Dio ci ha sottoposto tutti i demoni compreso Satana ci sono sottoposti perché noi possiamo cacciarlo Satana abbiamo l'autorità perché lo Spirito Santo abita in noi e lo Spirito Santo è più forte di Satana e anche di questo dobbiamo avere coscienza quindi noi non dobbiamo temere Satana noi dobbiamo sapere quali sono le nostre debolezze ma dobbiamo sapere anche quali sono le nostre forze la nostra forza è lo Spirito di Cristo che abita in noi ed è potente nulla se noi siamo in comunione con Dio nulla ci può fare né Satana né i demoni nessuno Gesù in un passo delle scritture dice non temete coloro che possono uccidere il corpo ma non possono fare nulla all'anima temete piuttosto colui che può far perire e l'anima e il corpo quindi non dobbiamo temere gli uomini non dobbiamo temere né il diavolo né i demoni non dobbiamo temere nessuno se non soltanto il Dio che è lui che può far perire sia il corpo che l'anima l'anima nella morte seconda nello stagno di fuoco e di zolfo solo Dio dobbiamo temere noi non dobbiamo temere assolutamente né Satana né i demoni perché alla fine quando furono mandati mi sembra i 70 tornarono da Gesù e gli dissero tutti felici che erano contenti perché i demoni gli erano sottoposti è vero i demoni gli erano sottoposti compreso Satana perché il credente che è in comunione con Dio ha operante in lui la potenza dello Spirito Santo e quindi non può non può essere vinto da Satana capite se è in comunione con Dio se persevera nella preghiera se si santifica se studia le Sacre Scritture le conosce perché le sue debolezze sono colmate cioè noi siamo carne polvere siamo deboli ma se curiamo determinate cose per mezzo dello Spirito Santo che abita in noi diventiamo forti spiritualmente e quindi i demoni ci sono sottoposti così è stabilito e così è quindi accadrà diciamo che accadrà nel cielo una battaglia ci sarà una battaglia in cielo e da quella battaglia in poi Satana non potrà più salire in cielo vi ricordate che abbiamo detto prima che ci sono ancora delle riunioni in cielo e Satana si può presentare davanti a Dio per avanzare le sue richieste contro la Chiesa e Dio glielo permette per ora glielo permetterà fino al momento in cui non ci sarà questa battaglia che adesso leggiamo Apocalisse 12 dal versetto 7 e vi fu battaglia in cielo Michele e i suoi angeli combatterono col dragone e il dragone e i suoi angeli combatterono ma non vinsero e il luogo loro non fu più trovato nel cielo e il gran dragone il serpente antico che è chiamato diavolo e Satana il sedutore di tutto il mondo fu gettato giù fu gettato sulla terra e con lui furono gettati gli angeli suoi e Dio udì una gran voce nel cielo che diceva ora è venuta la salvezza la potenza ed il regno dell'idio nostro e la potestà del suo Cristo perché è stato gettato giù l'accusatore dei nostri fratelli che li accusava dinanzi all'idio nostro giorno e notte ma essi l'hanno vinto a cagione del sangue dell'agnello e a cagione della parola della loro testimonianza e non hanno amata la loro vita anzi l'hanno esposta alla morte quindi vedete verrà il momento in cui verrà il momento in cui in cielo ci sarà questa battaglia questa battaglia terminerà col cacciare dal cielo e senza che possano più accedervi satana e i suoi angeli e saranno gettati sulla terra quindi quelli saranno sarà un periodo triste per tutta la terra per la chiesa infatti poi dopo verrà per l'azione potente di satana verrà l'anticristo che compirà la sua la sua opera però vedete come come il dio regna e controlla ogni cosa per adesso satana va a accesso al cielo solo perché dio glielo permette ma poi quando verrà il momento non ci sarà più accesso per il diavolo e per i suoi angeli nel nel cielo saranno gettati sulla terra e nella terra si compiranno tutte le cose che sono scritte poi per quanto riguarda ancora il diavolo leggiamo cosa succederà cosa gli succederà quando verrà il momento che il signore gesù cristo tornerà quando il signore ritorna una delle cose che accadrà che sarà fatta sarà quella che satana sarà incatenato e legato messo dentro un abisso quindi vi rimarrà in quel luogo per mille anni per il millennio in cui Gesù e i santi regneranno sulla terra senza che vi sia la seduzione del diavolo non ci sarà il peccato ci sarà ancora per quelli che saranno ancora nella carne ma ma il peccato diciamo sarà molto di meno perché il tentatore sarà legato e questa è una delle cose che gli accadrà questo ci serve per farci sapere che il diavolo benché la sua opera sia potente efficace dannosa pure è sempre tutto sotto il controllo di Dio e quando Dio deciderà di legarlo e non farla agire più lui non aggira più e quindi questo è di incoraggiamento per noi che sappiamo che il Dio regna su tutte le cose ora è scritto capitolo 20 di Apocalisse dal versetto 1 poi vidi un angelo che scendeva dal cielo e aveva la chiave dell'abisso e una gran catena in mano ed egli afferrò il dragone il serpente antico che è il diavolo e Satana e lo legò per mille anni lo gettò nell'abisso che chiuse e suggellò sopra di lui onde non seducesse più le nazioni finché fossero compiti in mille anni dopodiché egli ha da essere sciolto per un po' di tempo quindi cosa succederà perché è una cosa che dovrà succedere Satana sarà legato per mille anni non potrà sedurre poi sarà sciolto dopo il mille anni dopo il millennio dopo 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 sarà sciolto e leggiamo cosa succederà a Satana lo leggiamo più avanti sempre nel capitolo 20 di Apocalisse al versetto 7 e quando i mille anni saranno compiti Satana sarà sciolto dalla sua prigione e uscirà per sedurre le nazioni che sono ai quattro canti della terra Gog e Magog per adunarle per la battaglia il loro numero è come la rena del mare e salirono sulla distesa della terra e attorniarono il campo dei santi e la città di Letta ma dal cielo discese del fuoco e le divorò e il diavolo che le aveva sedotte fu gettato nello stagno di fuoco e di zolfo dove sono anche la bestia e il falso profeta e saranno tormentati giorno e notte nei secoli dei secoli quindi alla fine del millennio Satana sarà slegato sedurrà di nuovo determinate nazioni per spingere a combattere contro Gerusalemme contro i santi ma scenderà un fuoco dal cielo che le divorerà queste nazioni che saranno avranno marciato contro Gesù e contro Gerusalemme e alla fine cosa succede? alla fine di tutto questo Satana sarà preso e sarà gettato nello stagno di fuoco e di zolfo dove vi rimarrà per l'eternità e in quel luogo sarà lui e tutti quelli che saranno scaraventati lì saranno tormentati giorno e notte per l'eternità nei secoli dei secoli e questa è la fine che farà Satana il tentatore vedete non vincerà assolutamente tutto quello che lui fa per combattere Dio per cercare di bloccare la volontà di Dio e i disegni di Dio non ci riuscirà perché il nostro Dio nel quale noi confidiamo e abbiamo riposto tutta la nostra fiducia è lui che regna è il nostro Dio che regna su tutto e su tutti e nessuno potrà fermare la sua mano e le sue opere e i suoi disegni non le potrà fermare nessuno quindi questa è l'opera una parte delle opere che la scrittura ci insegna che fa Satana ma la scrittura ci dice anche le sacre scritture ci dicono anche la fine che farà Satana e quella ce la dobbiamo ricordare perché così andranno le cose cose che ancora dovranno avvenire ma che per certo avverranno non sappiamo quando ma avverranno questo era dunque il messaggio che volevo trasmettervi per puntare diciamo la vostra attenzione su alcune cose che riguardano Satana che è continuamente all'opera per sedurre se fosse possibile anche gli eletti quindi dobbiamo conoscere studiare le scritture pregare stare in comunione con Dio per vincere per resistere al diavolo e non cadere in tentazione a Dio siano la gloria l'onore e la lode nei secoli dei secoli amén a Dio